Corsa contro il tempo per riuscire a garantire gli stipendi ai lavoratori del consorzio di Bacino Salerno 2 che da tre giorni hanno ripreso la mobilitazione per cercare di sbloccare una situazione sempre più drammatica che rischia di esplodere nelle prossime settimane. Vertici del consorzio, diecambiente e rappresentanti delle diverse amministrazioni comunali interessate al problema ed impegnate nel Corisa 2 sono stati convocati questa mattina a Palazzo Sant'Agostino dall'assessore provinciale all'ambiente Adriano Bellacosa che si era attivato per promuovere l'iniziativa. Al termine dell'incontro è stato dato un mandato ufficiale all'avvocatura della provincia di Salerno per promuovere un'azione legale nei confronti della presidenza del Consiglio dei Ministri per riuscire ad ottenere i 7 milioni di euro dovuti al consorzio di Bacino Salerno 2 per la fase commissariale d'emergenza. Bellacosa ha anche invitato i sindaci a fare la loro parte per garantire i fondi necessari per evitare che la situazione possa degenerare. Intanto i lavoratori restano mobilitati. Oggi un presidio all'esterno di Palazzo Sant'Agostino sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine senza la necessaria copertura finanziaria dei comuni il consorzio potrebbe essere impossibilitato o comunque potrebbe avere seri problemi per liquidare le mensilità da ottobre a dicembre e la tredicesima. Lunedì scorso ricordiamo era stato saldato lo stipendio di settembre.